terremoto in vista il grande fratello nel corso infatti della prossima diretta che andrà in onda domani 8 gennaio potrebbe accadere di tutto infatti ci sarà una sanzione molto dura nei confronti di quei concorrenti che non hanno manifestato empatia nei confronti del lutto di beatrice luzzi che è stata costretta come sappiamo nei giorni scorsi ad abbandonare la casa del grande fratello per la morte del padre alfonso signorini per questo motivo è andato su tutte le furie nel vedere l'atteggiamento di alcuni inquilini e pare che stavolta la situazione non si risolverà soltanto con una semplice ramanzina l'opinionista infatti viviana bazzani su tiktok ha rivelato che alcuni concorrenti saranno convocati direttamente in studio qui dovrebbero affrontare addirittura un televoto flash colui o colei che perderà sarà mandato direttamente a casa quando quanto anticipato i concorrenti che potrebbero affrontare questo televoto lampo saranno rosy anita giuseppe garibaldi massimiliano varrese e letizia petris come ha accennato alfonso signorini è fuori di sé per lo spettacolo dimenticabile offerto da alcuni concorrenti e dando credito a quanto riporta anche novella 2000 pur i vertici mediaset non sarebbero affatto contenti della piega che si è presentata da tutta questa vicenda